La seconda edizione del premio Più bellezza in valle, Biella è diventata una città creativa UNESCO e la mission non potrebbe non includere la parola bellezza, dovrebbe diventare integrare la cultura, la creatività e la bellezza nelle strategie di sviluppo locale. La quantità di bellezza distribuita nel nostro paese, la nostra capacità di riconoscerla la bellezza, quello che comunemente noi chiamiamo il buon gusto. Qual è la ragione del premio Più bellezza in valle? Contribuire a migliorare la gradevolezza di questo territorio per la gente che ci vive, per la gente che vorrà venirci a vivere convinti che solo in questo modo si possa ritrovare ragioni di sviluppo anche economico e di benessere per tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tutti questi sono esempi che ci fanno imparare e i concorsi sono sempre anche una palestra per imparare qualcosa. Per noi che siamo cresciuti in questa valle è sempre stato importante far vivere bene le persone che ci lavoravano. Il premio Reda per la bellezza si rivolge a quelle persone o strutture per le quali non avrebbe senso considerare una cosa che hanno fatto. Ne hanno fatte tante! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!